Purtroppo le organizzazioni di tipo mafiose sono uscite da tempo alle confini regionali di origine e di provenienza che si sono diffuse e radicate anche in altri territori del nostro paese come l'Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia e il Timo che dimostrano anche sentenze già definitive. Quindi la situazione è di una realtà criminale che si sta propagando anche fuori dai confini nazionali. Però c'è anche, favorita poi dalla globalizzazione, dalle mille risorse che può fornire anche il nostro gruppo dell'informatica in questo settore. Detto ciò però bisogna anche dire che noi ci siamo da tempo organizzati per contrastare efficacemente questo fenomeno e il contrasto funziona non solo nei territori tradizionali, ma anche in quelli di più recente insediamento. Quindi bisogna agire, ritengo, con sempre maggiore efficacia e soprattutto bisogna contare sempre di più sulla cooperazione internazionale perché ormai i beni mafiosi vanno ad allocarsi anche fuori dal territorio nazionale. Quindi la cooperazione internazionale è fondamentale. Invece analizzando, chiedo scusa, la situazione foggiana, spesso anche la criminalità foggiana è stata esportata, tra virgolette, all'estero. Lei che idea di questo? Di questa è stata definita una delle mafie più esperate di tutta Italia. La criminalità foggiana ha dei caratteri di aggressività e di perversività particolarmente incisivi, purtroppo che ricordano la criminalità calabrese, non per caso. Una delle matrici delle organizzazioni criminali calabresi è venuta fuori 20 anni fa, 30 anni fa, proprio nella vantaghetta calabrese, oltre che dalla camura campana. Quindi è una criminalità più recente rispetto a quella calabrese o campana o siciliana, ma non meno aggressiva. E quindi è stata e è contrastata con questa consapevolezza, che non bisogna mai trascurare soprattutto il profilo patrimoniale. Anche nell'operazione che commentiamo oggi ci sono stati interventi sul piano personale e anche sul piano patrimoniale, con sequesti piuttosto importanti, i confronto degli aderenti a questi gruppi criminali, colvolti nelle indagini di cui parliamo oggi.